Allora, Antonino Salemi Garigliano ci racconta come nasce l'idea creativa. Intanto grazie Cristina per questa opportunità. L'idea creativa è una cascata incontrollabile di sensazioni, una miscellanea di emozioni che devono uscire per forza. Quindi l'esigenza di far uscire attraverso qualsiasi modo espressivo che tu voglia utilizzare, la scultura, la pittura, l'arte, la moda, in modo che queste sensazioni e queste vibrazioni possano defluire e che non si intersicchino all'interno di noi. Quindi evitare un tormento interiore fondamentalmente, una necessità.